Ogni veicolo è speciale. Sceglietene uno e completate la sfida. Io scelgo la GT Scorcher! Io scelgo il Baha Jump Truck! La Veloci Nation! Allacciate le cinture! Le lezioni cominciano... ora! La gara non è finita finché non si taglia la linea del traguardo! Attivati! Oh, Twins! La Veloci Nation! La Veloci Nation!